Salve ragazzi e cari amici del web, siamo a Jakarta in Indonesia e ci troviamo esattamente al Vespa Center della Piaggio, l'unico punto in cui riparano le Vespa. Per confermare che siamo in Indonesia avete visto proprio una tipica espressione autottona. Questa è la famosissima Vespa Modello Italia, rarissima, si differisce per i colori della bandiera italiana, abbiamo anche un gagliardetto, altri modelli e questo qui è il pezzo clou, è il pezzo rarissimo d'eccezione, con anche lo scheletro appeso, guardate. E qui abbiamo il meccanico intento nelle riparazioni. Come voi sapete col martello si aggiustano tante cose. Eccoci qua, quello che avete visto è il Vespa Center di Jakarta. Ciao a tutti!